Senti, Fabio ha detto chiaramente che gli Uptons sono esclusi, anche se siete spaventosi e popolari in questo franchise. Noi torniamo sempre per cinque notti, ma io no. Guardate qui. Cosa? Che succede? Vorrei tanto pitiare qualcuno! Oh mio Dio, anche io! Facciamolo allora! La notte aspetta di svegliare quei cor... Ma che diamo di... Sapete cosa? Dov'è Freddy? Non ce ne possono essere due, vero? Freddy? Io? Bene, ora abbiamo... Due Freddy! Fa culo me ne vado! È lui il guardiano! VATTERI! Ti prego, sparagli. Sono tornato! Ma cosa? Sto fluttuando da ore. Quindi comunque tu non puoi parlarmi, ma noi dobbiamo andare alla part-send-service e installerò dentro di te un becco e... potrei ricominciare a parlare. Tu... Odiavi così tanto questa idea? Freddy? Freddy? Tutti quelli che ho sempre amato sono morti! Tutti quelli che ho sempre amato sono morti! Perché devo sopportare questa maledizione? Perché tu non lasci che io... Ho risolto il morso dell'87 e in questo video ve lo dimostrerò. Tutti pensiamo che sia stata Mengel a causare il morso, ma abbiamo mancato un dettaglio importante che ci dice il Fongai in FNAF 3. Lui parla del ventilatore sulla scrivania e dice di fare... Attenzione alle dita? Ok, questa è la clip del Fongai in cui parla di questa cosa. Abbiamo trovato un vecchio ventilatore sulla scrivania. Sembra arrugginito, quindi attento alle dita. Lui dice attento le dita e... Quello non dovrebbe comparire. Comunque, lui dice attento le dita perché il ventilatore è un'entità malvagia che in pratica dovrebbe tipo... Finalmente, queste sono le ultime candele per i tavoli. Adesso andiamocene così, posso iniziare a dare gli inviti per la festa. Questo sembra avere molte energie. Penso che prima dovremmo calmarlo. Non preoccuparti, ci penso io. Conosco un vecchio rimedio che funziona ogni volta. Consegna speciale. ... ... ... ... ... Grazie a tutti Goditi il tuo successo Non durerà molto Guardate qui Beh sono fottuto Sono molto annoiata E depressa Guardate qui Guardate qui Guardate qui Grazie.